eeeh ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di brosders e lo so da tanto che non porto video però stiamo preparando una serie con questo andiamo con boh vabbè scusate raga però scusate per la scienza però stiamo preparando un come si chiama vabbè una serie e con questa arriviamo a 16 like se arriviamo a 16 like porterò un video con super megamer con questa giochiamo andiamo in partita raga aspettate andiamo in partita siamo in partita no eccoci qua raga in rinatti sono morto ciao ma chi è ma chi è nobel boh accepti acceptiamo ciao 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 io sono noob si lo so guardiamo il tuo profilo 139 vabbè un scherzino che scusa puoi usare pocio grazie no che cattivo vabbè andiamo in partita pronti a giocare ho visto i dei video sei molto scarso eh ma cosa ne sono scarso si lo sei allora adesso proviamo a te quanto sei scarso io sono fortissimo guarda sei lentissimo da aprire le casse io ci metto un secondo mi faccio tu proprio scarso e migliora che meglio e comunque facciamo così dopo questa partita facciamo amichevoli e vediamo chi è più forte che ne dice ok ok aiuto c'è un berrile da me c'è un aiuto c'è un bombardino c'è un bombardino è oggi io un prank aiuto 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 no 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 nooo ho pochissimo certo che sei proprio scarso eh proprio scarso ok facciamo i microfoni ti faccio vedere io come si gioca come si gioca, scarzone fai il singolo ok, fai il fatto singolo va bene, tanto perde lo stesso è troppo scarso ma scusa scusa una domanda tu hai un canale? io? beh no ma ne voglio aprire uno però bro non so che video fare fai video di noob ma stai zitto che tu fai proprio schifo a giocare se le suono eh ah vedi sei morto per prima dovresti vergognarti osservami se vuoi ovvio che ti osservo vediamo le tue azioni dritte no vediamo le mie azioni fortissime se vinci guarda cosa ho fatto se vinci se vinci tu dovrai fare un video con me di minecraft ok io? perché? perché hai vinto e ti meriti questo va bene dai però sono un po' scarso a minecraft ah! pure lo ammette raga ragazzi scrivete sotto i commenti no dai non sono così ah! ho vinto hai visto che forza che è? ok vuoi fare una raffaggiamo oppure continuiamo la sopravvivenza continuiamo la sopravvivenza tanto vinca io sei troppo scarso mi sa eeeh ditevi che io sei troppo scarso mi sa parla parla pesa pesa raga mi piacerebbe aprire un canale però non lo so che roba tanto tanto tranquillo per cosa ti serve un canale per divertirti? no aiuto 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 no sono morto anche io vabbè dai lo facciamo dai tu sei morto siete in posizione tu al sesto tu hai colt ma certo che colt che domande sono sgaghera sgaghera no qua c'è un bello tierno per in tua informazione tierno gamers tierno gamers potete chiamarmi anche tierno vieni qua che ti accedo bello a me vieni qua scappi scappi vieni qua aiuto aiuto uccillo cosa cacchio fai? ha un stupido bot ti odio sei morto? no sono ancora vivo bravo bravo tanto dopo non lo farai tanto però ti sopravvivi fino alla fine oh qua ci sono belle power ups fino alla fine? fino al secondo posto ti batto sappi perchè io ho già 10 power ups eh? ho già 10 power ups comunque su minecraft sono un po' scarsino però su brad stars me la cavo ho giocato tanto no ucci ucci dov'è il tierno ucci? ho ho dove sei? vieni qua ciao no 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 ti ho battuto avevo poco vita avevo poco vita però ti ho battuto ragazzi se questo video se questo video vi è piaciuto con perché venite boh vabbè se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per un prossimo video arriviamo ai 16 like per un altro video e da me ciao ciao bell cat Musica